e ciao a tutti amici io sono franco aversa è la foto è più grande di me dicevo la foto del nome non la foto dell'ippopotamo come ben sapete io vado in cerca di tool gratuiti ad esempio questo è un open source che ho trovato che possono tornarvi utili come avete visto ultimamente sto guardando cose che sfruttino l'intelligenza artificiale anche se non è così semplice poi capire quando è veramente intelligenza artificiale quando no ma oggi ho trovato questo tool e vi voglio far vedere come scaricare ea cosa serve ovviamente e come detto appunto è un tool free e gratuito lo trovate su cgpies.gumroad.com comunque poi in descrizione inserirò l'indirizzo come vedete questo tool serve a fare una upscale di un'immagine e recuperare la definizione senza che questa sgrani per colpa dell'ingrandimento quindi parliamo di immagini piccole o immagini che presentano già il difetto della scalatura possiamo ingrandirlo fino a 16 per allora andiamo a questa pagina dovremo scaricare due cose la prima è questa che è gratuita qui se volete ad esempio assegnare qualcosa all'utente vi ringrazierà di sicuro ma se voi inserite 0 fate acquista mettete un indirizzo email potete anche regalarlo qualcuno e cliccate su ricevi quindi ora andiamo all'interno della mia mail ecco la mail che mi è arrivata e andiamo a fare visualizza il contenuto a questo punto arriviamo a questa pagina dove possiamo fare il download e così facciamo io vado a scaricarlo sul desktop sul desktop troveremo questa cartella zippata e ovviamente andiamo a fare estrae tutto possiamo estrarla qua ecco qua questo lo vado buttare ecco qua ci troveremo questo file bat per funzionare abbiamo bisogno di una seconda parte quindi ritorniamo in questa pagina e scendendo giù andiamo a vedere download windows version clicchiamo qui andiamo a finire in quest'altra pagina dove possiamo andare a scaricare questa versione windows vulcan ok anche questa la scarichiamo sul desktop ecco qua è questa che deve essere ancora zippata quindi estraiamo tutto ok ok questa la buttiamo questa l'apriamo vedete che abbiamo vari file li copiamo all'interno dell'altra cartella cioè della prima che abbiamo scaricato già qua assieme ci danno due immagini di prova questa è una foto e questa è un'immagine ma io voglio provare a fare una prova con questa immagine che ho scaricata vedete che piccola sembrava buona ma è talmente piccola che quando la ingrandisco vedo che è tutto bello pixelizzato cosa devo fare per provare a vedere la di ingrandirlo con questa app vado a prendere il file originale e lo trascino e lo trascino sul file con l'estensione bat a questo punto si apre questa finestra come indicata anche la mia scheda e abbiamo il ridimensionamento dell'immagine ora vedete che l'immagine è stata vettorializzata ovviamente questa immagine ora è molto più grande se la ingrandiamo tenderà a sgranare ma vediamo la differenza in termini di pixel quindi vado qui può arrivare fino a 16 ingrandimenti andiamo a vedere innanzitutto la risoluzione quindi documento facciamo ridimensionate la vedete che questo è 396x448 vediamo questo originale che ha una risoluzione proprio bassissima infatti vedete che è 99x112 neanche un'icona quasi e guardate la differenza ovviamente se voi partite già con immagini di più qualità infatti facciamo la prova con una sua vediamo questa la andiamo aprire eccola qua stesso discorso che se la ingrandiamo vedremo tutti questi artefatti e che è molto rovinata quindi proviamo a trascinare anche questa sul file bat viene rielaborata guardate la differenza ovviamente lavorando sull'elaborazione dei pixel con l'intelligenza artificiale succederà che questa immagine viene un po' rielaborata insomma non sarà molte volte corrispondente se è un disegno il risultato come vedete è ottimo nel caso di una foto facciamo la prova con l'input 2 andiamo prima a vedere i problemi che presenta se la ingrandiamo ovviamente guardate magari è tirata giù da un video la andiamo sempre a inserire sul file bat ed ecco qua vedete che effettivamente sembra più un disegno ora che una foto perché viene tutta ritracciata come se fosse in vettoriale però sull'utilizzo di molti file questa cosa funziona invece veramente bene quando ad esempio avete dei disegni sgranati che magari avete tirato su con lo scanner o se avete delle immagini che potete utilizzare ma sono sgranate e volevate ingrandirle poi vediamo se può funzionare anche ripetere l'ingrandimento due volte questo lo sto facendo assieme a voi ovviamente io ho preso quella già elaborata e la rielaboro ulteriormente vediamo ed eccola qua come vedete da questa a quella di prima si è mantenuta però quante volte è diventata più grande abbiamo che è diventata 3520 per 3520 era di 220 per 220 quindi partendo dal file di 220 per 220 siamo arrivati a oltre 3000 pixel e vediamo subito la differenza qui ci sarebbe anche un file da leggere perché introduce anche dei comandi che possiamo andare ad utilizzare pensate che potrete fare l'appscale anche di un video come trasformandolo in frame utilizzando ffmpeg viene trasformato nei singoli frame poi diamo questo impasto a questo programma che ricostruirà tutti i file quindi poi una volta inserito nuovamente in un file video avremo l'appscale di tutto il video rielaborato io questo non l'ho visto se volete posso andarlo a vedere eventualmente vedere se riesco a farvi un esempio bene come al solito spero che questi miei video possano tornarvi utili e ci vediamo alla prossima ciao mi raccomando un bel like